Appunti importanti su Rushenberg. Rushenberg trovava oggetti che lo interessavano per le strade di New York City e le portava al suo studio dove potevano diventare parte integrante del suo lavoro. Recramò che lui voleva qualcosa altro di ciò che poteva fare da solo, utilizzando la sorpresa insita negli oggetti raccolti dalla collettività attraverso i quali vivere il senso generoso della sorpresa e se all'inizio non fosse stata vissuta come una sorpresa ci sarebbe stato un momento in cui l'avrebbe raggiunta. Così l'oggetto in sé essendo estrapolato dal suo contesto diventava una cosa nuova.